Gioco a golf, gioco a golf, quindi spesso gioco a golf, un paio di volte a settimana almeno vado a giocare che porta via un sacco di tempo. Poi faccio un posto al sole e poi ho una mia piccola casa di produzione e in questo momento stiamo scrivendo un lungometraggio ambientato fra i teenager pariolini della Roma Bene. Poi questo periodo che insomma c'è abbastanza storia su Andrea, Arianna, così... Devo dire che mi sono divertito molto, cioè anche a non fare quella che è prevalentemente il genere in cui viene coinvolta Andrea che è la commedia, diciamo si tratta anche di scene un po' più drammatiche con Arianna più emozionanti, più coinvolgenti. Non è ancora andato in onda tutto, andrà in onda, spero che insomma il pubblico gradirà. Al momento in cui siamo diciamo c'è questa gelosia, in amore è conciliabile insomma pensare al bene dell'altro quindi comunque al fatto che c'era un rapporto di affetto con questo ex, è conciliabile con invece l'amore che uno provava per una persona oppure no, prevale la gelosia. Penso che come per tutti è difficile trovare degli equilibri, sicuramente è una gelosia come quella di Andrea nei confronti di Arianna per il suo ex, è credibile, cioè credo che pure io sarei geloso se ci fosse un ex in mezzo così invadente. E allo stesso tempo, cioè se uno vuole bene a una persona, desiderare anche un appagamento che sia nel lavoro, che sia nella vita, che sia anche semplicemente di amicizie e di rapporti credo che sia parte del volersi bene. In alcuni momenti lui è stato un po' frustrato insomma, prima che ricomparisse questo ex rispetto al rapporto con Arianna. Nella mia esperienza c'è sempre uno che è un po' più attento nella coppia ai problemi dell'altro e credo che sia prevalentemente una responsabilità di chi è frustrato risolversi il problema e quindi cercare anche di non scaricarlo sull'altro fondamentalmente. Poi se dall'altra parte c'è, come dire, anche lo stimolo giusto, la comprensione giusta, meglio. Purtroppo sono all'ordine del giorno anche storie di violenza, la violenza sulle donne spesso nasce proprio nei rapporti sentimentali. Secondo te questa cosa dipende dal fatto che la società non è ancora veramente insomma egualitaria o quali sono le motivazioni? Sicuramente non ti so dire, penso che ci siano, cioè non è una cosa che mi appartiene per cui è una cosa che capisco soltanto fino ad un certo punto, cioè non la capisco fondamentalmente. Penso che sia negli uomini che nelle donne c'è un gap culturale da colmare per non arrivare a questo però penso che ci si sta anche spostando in avanti verso una maggiore comprensione di questo, un miglioramento della vita familiare, mi auguro. Tu stai vivendo una convivenza, quali sono i segreti per riuscire a vivere in armonia, in equilibrio, per conciliare affetti, lavoro, fan? Prima mi sono divertito parecchio, quindi forse mi manca meno la vita del single scapestrato ed è più importante per me in questo momento cercare di costruire qualcosa, poi non è un obbligo se uno ci riesce bene. Ci vuole tanta pazienza perché comunque è difficile che uno si trova perfettamente con una persona tutti i giorni, cioè credo che sia difficile pure per l'altra persona che sta con me a sopportarmi tutti i giorni. Per quanto io sono super simpatico, allegro, positivo, tutti i giorni, non è assolutamente vero. Siamo in tempi di Gomorra, del grande successo di Gomorra. Mi piacerebbe che si raccontasse una storia di criminalità organizzata a Napoli in cui i protagonisti camorristi, i delinquenti, non sono così interessanti, affascinanti, guidati da un codice etico così forte, perché non lo è in realtà, non sono così. La percezione generale, conoscendo e frequentando questa città, è che non siano realmente così le cose, anzi sono dei personaggi assolutamente poco affascinanti, molto poco colti, diciamo, fortemente ignoranti, fortemente inquietanti sotto tanti aspetti. Se si potesse raccontare, diciamo, il poco fascino e allo stesso tempo una presenza così forte dentro la città, secondo me sarebbe un taglio più interessante, senza nulla togliere a Gomorra che ho seguito con attenzione.